In Metal Gear Solid 4 ho deciso di fare un video divertentissimo per voi che vi farà schiantar da ridere. Se vi piace iscrivetevi e poi lasciate i vostri commenti, sentirete le puzzette di Johnny Sasaki. Fate sentire che sei nascosto nel barile, mi farà ridere anche a me. Ha dei problemi intestinali, soffre un po' di stomaco, eccoci ora un soldato nemico lo becca, toglie il barile e vede Johnny Sasaki senza mutande, non ha avuto il tempo di rimettersi i pantaloni. E il soldato lo insegue. Bene, ora Old Snake può continuare a proseguire e andare avanti per tutto il Medio Oriente. Ora potete prendere la scatola di cartone e il bidone. Questo cos'è? Un barile o un bidone, secondo voi? Se è vostro lo potete usare per rotolare e schiacciare i soldati. Bene, vi saluto e speriamo che questo video vi è piaciuto, un casino da morire e un po' di puzzette che ha fatto Johnny Sasaki.